La scelta di Cuneo perché è un luogo che funziona sia dal punto di vista del business sia dal punto di vista del turismo, esatto? Esatto, ma non solo questo, come potenzialità dei passaggeri c'è anche l'infrastruttura, l'operatività dell'aeroporto, i collegamenti, la viabilità ferroviale ma anche statale e quindi ha tutti i presupposti per noi che rendono attraente l'aeroporto di Cuneo e questo nuovo collegamento. Partirete con 5 volte la settimana, è già una programmazione molto intensa. Sì, questo per noi è comunque il minimo perché vogliamo rendere possibili collegamenti con l'Happ di Monaco dove partono più di 200 aeromobili al giorno per più di 200 destinazioni, quindi chi parte in un giorno e vuole tornare e il giorno dopo deve poi trovare il volo. Solo quando mettiamo 5 voli la settimana abbiamo un prodotto business, se no perdiamo forse l'opportunità, vorremmo fare questo tentativo nel modo più giusto che si può fare, altrimenti non si può evaluare il risultato di questo tentativo. Quindi la prospettiva naturalmente è aumentare ulteriormente? Sì, la prospettiva quando funziona possiamo o aumentare le frequenze, volare più di una volta in questi giorni in cui voliamo, forse anche la mattina o la sera sarebbe un prodotto ottimo, oppure anche volare nei giorni nei quali attualmente non voliamo, sarebbe sabato e domenica dove possiamo sempre poi mettere una rotazione o due. Lanciare una rotta nuova in tempo di Covid è una sfida più grande? Certamente, ma devo anche dire che senza la situazione di Covid forse non saremmo riusciti proprio durante quello che facciamo di solito, o che facevamo prima, perché non c'era capacità. Adesso abbiamo almeno la capacità degli aeromobili e quindi anche questa situazione porce delle opportunità. non è solo difficile, ma soprattutto è difficile, ma guardiamo sempre avanti e abbiamo trovato questa opportunità.